Milan è il Netcon Forum perché anche il calcio evolve, cambia la passione e quindi cambia il modo con il quale si sentono legati, cioè quel bond emotivo con il club, cambia e quindi noi dobbiamo evolvere con loro, senza dimenticare da dove veniamo, la nostra legacy, la nostra storia, ma guardando con un'attitudine progressive, come dice sempre il nostro amministratore legato Ivan Gazzidis, al futuro. Grazie.